Ma è possibile rancare da bronzo l'amore Che non ne usi su Cassio? Te ne faccio subito vedere Puoi vederle qua Conqueror, Prisoners of Mind, Tenacity, Cup of the Grace E Tadist of Blood e Renews Hunter In questo caso questo con matchup è molto molto positivo Certe volte su matchup di champion che mi possono dire addosso Tipo Irelia, Trinamer, questi matchup qua Comunque Jax, Fiora Potrei usare il resolve secondario What's up Cans? T'hanno regalato il sub Guarda che culo rotto che hai Gianna perché non ci provi? Non gli dica ancora di usci insieme La prossima volta digli alla tua amica se la riporta Dili che ti interessa E magari la sua amica glielo dice E magari se gli piace te lo ridice anche a te Maite Però digli semplicemente alla tua amica Ti andrebbe se riusciamo Nel caso che dovessimo riuscire di riportare un'altra volta alla tua amica? Così lei capisce che c'è interesse Però tu non gli hai detto Cioè tu non gli hai detto che è interesse per lei Io l'avevo fatto capire tra virgolette Ma se magari lei ti dovesse dire Ma perché ti piace? Faccio no no però mi sta molto simpatica Una cosa del genere Tu ti devi riparare sempre il culo Ok Ma l'amico è maschio E metta la diga al tuo amico Allora la soccarsi Ma perché Ma perché E allora niente Sei maschio Devi giocare tutto da solo Più Più amico Mio che suo E allora veramente Devi giocartela da solo Devi parlare con lei Non puoi avere agganci di amicizia Allora Non puoi avere aggancare Ed ecco Lo qua Ma so Non puoi avere agganci di amici Il fatto che non boccia il flash Esatto Che so bad Regalare qua E tippare con Cassio Porca troia Forse dovevo regalare Cioè dovevo regalare E torna a piedi e basta Sti cazzi Allora Il fatto buono è che abbiamo Un rumble senza flash E abbiamo Gerva in giungla Visina anche c'è il flash Ah porca papazza Non è che ho disespectato Rumble e basta Non è che ho trollato L'ho disespectato e basta Ma sentite la voce di mia madre Ragazzi Io sono ritardato Già Ma se ti ho portato Ma se ti ho portato fortuna Con la Cili maestro Io sono il suo Il suo emblema Comunque dobbiamo giocare Sif e basta adesso Non abbiamo il TP Lui ha il TP Però abbiamo più danno Imo Ma non c'ho mana Oppure ci posso essere Questa è questa wave Porca puttana Che situazione di merda Non farò fare una cosa Molto brutta Non l'ha scritto questo Prendo solo l'expo Dovrei aver aspettato Abbastanza tempo Per aver mandato via Resin Esatto Infatti è bomba Mid, mid, mid È mid, resin Dopo c'è sta wave Per regallare Muoli Sì ne andrà contro Gunk Il gunk Mid Monk dov'è la top Adesso C'è l'aprox No Se vorrei aver killato da solo In realtà Non c'ho abbastanza mana Sarei morta anyway Solo che ho dovuto Resetta per forza Cioè Dove per forza Pushare la wave Solo che ho male Pusha in Sono stra behind È fine Per carità Non sono troppo behind Nel senso Totalmente gestibile Il problema è che Quel gunk di sim Mi ha dato veramente Tanto behind Porca troia Ho sbagliato Che ha dagli Quella kill Però è che adesso Non c'ho neanche un recall lui Però c'ha danni base Molto più alti rispetto a me Perché io Sprego tantissimo mana E qua c'è sicuramente Resin un'altra volta Lui sta senza ulti Qua con un recall enorme E c'è Resin qua per forza Cioè Credo sia Logico Ci sia Resin qua Esatto C'è un'altra volta Sto facendo Sto facendo Sto facendo multi-gun Qua Sto facendo multi-gun Almeno bot Vincono Era un po' Tipo i bot senza regole Cioè Vedete Questo è scarso Un culo Ha tipato Bot senza regallare Con zero item Con magari Quattro golden bag Bellazza E lo andiamo Non siamo messi Troppo bene Ma anche per via Del Vendo questo Perché sono adesso Inutile a prendere Pozioni Tanto rumble Se mi ingaggia Mi ingaggia in Cioè Non è un engage Perché mi arassa E poi torna Mi arassa e torna Se mi ingaggia Mi ingaggia per killarmi Quindi Non ha senso Per me comprare Avere le pozioni Adesso Deve non avermi regalato Con la goccia Già avevano deciso Di non giocare Top side Ecco Bravo Pipo Di non un po' da un po' Nu evo danni Nu evo danni Le seguito un po' di danni L'avrei fatto molto di più A3 si sta formando bene Decent Va bene Mi servirà a buildare anche un morello contro di loro Sustain 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 Devo solo scalare No flash ram Visione lì Oh Buono Ce l'ha tanto a fare sto ganchetto bro Non ha il tp di humble Non ce l'ha avuto A parte che già non volete varlo Ma vedete quant'è ed quello Quello lì Ce l'ha gli ambri Questo volete varlo Di cazzate ne ho sentite Ma questo No ma io ho proiettato il movimento delle scene La no quello di Nandi Volevo solo proiettare il movimento delle scene Invece ho proiettato quello di Di Rambola anche Non è messo male Tristana Holy shit Allora la mia botte è normale che vinca Il loro jungle ha gancato top Early game livello 4 E ha spiegato il flash Il mio jungle ha gancato bot Quindi è normale che la sua top vinca È normale che la nostra bot vinca Capito? Fine C'è Rumble mid sicuro E il jungle fa passare da là Appena c'è Rumble mid Vieni vieni Dalo di papà Allora la procedura Abbiamo Grazie a tutti Vabbè vaffanculo allora Ok Buono Ah penso lo riuscisse a killar Cosa invece è andato su Leona Castellini Il genio capito Fine Tristana è morta subito Dica Questa cosa è veramente Ciao cane si fida anche oggi Sei il mio streamer preferito Minore 3 Conqueror è veramente troppo strong adesso Le scarpe hai ragione scusa Scordo sempre cazzo Fai 6 mesi di resav Grazie mille Fiery Benvenuto negli anni cane Bravo Grazie mille del supporto Dove sarà mai Leona C'è pure Elisin qua Ok Abbastanza 6 mesi con Twitch Prime Grazie mille del supporto Miniteri Benvenuto a Leganiana Come ho fatto l'ultima Non prendere la E ultala Eh non devi aspettare così tanto Quanto è mancato per l'ultima C'è un range veramente per poco Buono Veramente poco Se viene da là fanno triple kill Invece Buono No but Alpix è vero Ho mancato veramente poco Vabbè fine Va bene Abbiamo fatto Abbiamo pelato anche Jean Mi spiace che con il flash Però Forse se dovrò andare su Le Cindy Facciamo un bel Liandri Dopo Liandri Andiamo di Morello Immagino Assolutamente Di Morello Mi hanno fatto l'ultima io Me l'ho fatto Me l'ho fatto Me l'ho fatto Buono Ai 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 Stanno sempre contro il bovero Ghani Dobbiamo andare a fare Inferno All'arrivo Cazzo In altp Cerco L'arrivo Asap Ma Giorvan Che cazzo Ha fatto Dobbiamo Viopper Inferno No Coz No 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 F**k you Ho trovato io qua, my bad Non saluto, morì qua Totalmente perso di vista Rumble Poi sto farmando molto male adesso Vorrei tornare a farmare di più Non sai che tu devi fare un ottimo lavoro In realtà We can rush nash Mi sono strafiddato Dica Grazie per il sub e benvenuto alle gagne di cane Erduka 96 Con Twitch Prime Primo mese Erduka grazie mille del supporto mate Benvenuto alle gagne di cane bro Grazie mille del supporto mate E' un po' di più E' un po' di più E non c'ho vision Ok E' un po' di più E' un po' di più E' un po' di più Cassa è iniziato a diventare grosso No grazie Skyfailer Grazie mille E' la posizione della webcam Però no non sono più grasso Ti preoccupi mi fa piacere Ma no grazie Ma no grazie cosa No non lo sono Cane Che c'è Io beh Qualcuno vuole legare un paio di scarpe Dobbiamo sopra Andare al livello 14 Dobbiamo cercare di livellarli Per forza Siamo molto Siamo molto Molto strong noi Il problema è che senza Cassa Non ci può usare a noi E poi basta Perché Jarvan non fa danno Quindi Can't join now Good No push a top Qui c'è una vice Ma Cassina è grosso Ma è anche troppo Sinceramente Ci dobbiamo dire Regression Tristana c'ha 3 item Questo qua si è il 14 E lo voglio prendo il 14 Ho il TP up Rumble in mid Stanno C'erano Exploro A caso Solo me Leone è su di me Regallo Ho fatto il 14 Stanno venendo topside Andiamo a fare questo Sì Qua avete scelto Perché non credo ci sia mai Leone Tutto guarda Vado qua a farmare Il bot Ho il TP up Se avete bisogno Buono Ottimo drago Ciao Matteo Buona nakate mate Ok Ok Buona notte non c'è nessuno Mannaggia a me Bravo, travesse il muro Orca puttana Non c'ho dovevo stare là Strano che Gatorax abbia guardato qua a caso Questo è il nostro Nash Cazzarine ha farmato un casino Noi siamo andati molto behind per questo motivo Perché cazzarine ha farmato solo TP Back Vado là, sennò questi fanno il Nash Vuole andare a creare a bot Grazie per il sub e benvenuto alle cagne di cane Buonasera belli, non ci si sentiva da un po' Questo è quello Uppetoto Un tetra 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 Senatore Isinor Tre mesi di Rezab Grazie mille bro Ribemduto le mani cane Grazie mille del supporto Poggio Nice one Cazzo è in alz 16 Ormorello Arrivo verso il drago Non la una vez Abid Cazzo è in a Vib Vib Non ho capito come abbiamo fatto prendere di range Jin, guarda, guarda dove sto, guarda dove era Jin Come ho fatto a non prenderlo? Come ho fatto a non prendere Jin di range? No idea Stanno ardentando comunque Io stupidamente sto cercando di risolvere i loro problemi invece di giocare safe Ma tu di zonio adesso ci mangi C'è un tuo inferno 4% Trash dovrebbe fare queste cose no? Trash dovrebbe essere Trash dovrebbe essere Trash dovrebbe essere Nice one Nicchia, quel baron stilato Ci ha fatto vincere la partita Bel game Buongiorno Buongiorno Buongiorno